Bene amici di Alessandro TechWord, guardate quanti powerline sono presenti sulla mia scrivania. Ho deciso di raggrupparli tutti per spiegarvi un attimino come si fanno ad utilizzare tutti insieme, quanti se ne possono utilizzare, se si possono utilizzare e come configurarli. Allora, vedete che qui abbiamo decine, 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 non scherzo, molti modelli di powerline. Parliamo dai 20-10, per esempio, agli ultimi usciti, 40-10p kit, fino ad arrivare al 20-10. P-kit, sempre, che è un powerline con spinasciuco. Allora, qual è la differenza? Innanzitutto, la prima cosa da dire, i powerline tra di loro sono compatibili? La risposta è sì. Potete utilizzarli tutti insieme, questi? Sì, la risposta è sì. Però, chiaramente, c'è da fare una breve considerazione. I powerline devono, appunto, dialogare sull'impianto elettrico della vostra casa, quindi sostituiscono, chiaramente, il cavo Ethernet sull'impianto di casa vostra. Quindi, uno lo collegherete vicino al modem router, lo collegherete con un cavetto, e l'altro, e gli altri o l'altro, li collegherete nelle zone dove avete necessità di Internet. Tra di loro, instaureranno una connessione tramite onde covogliate sulla linea elettrica del vostro appartamento. C'è da però fare prima una precisazione, anzi, n precisazioni, perché innanzitutto non è detto che i powerline possano funzionare nel vostro impianto elettrico. In una fase di preacquisto, di prevendita, nessuno vi potrà dire se potrebbero funzionare o no. Io stesso li utilizzo su impianti con contatore Enel differenti, e gli stessi funzionano tranquillamente. Quindi, a volte potrebbero non funzionare nella stessa stanza, a volte potrebbero funzionare anche, addirittura, come a me è capitato, anzi, è capita, perché li utilizzo, in impianti elettrici differenti, proprio sotto due contatori Enel differenti. Quindi, in fase di prevendita, è difficile identificare se il powerline può funzionare nella vostra abitazione, oppure può non funzionare. C'è anche da dire che tutti i powerline sono tra di loro ipercompatibili. TP-Link parla massimo di 14 powerline per impianto elettrico. Io non consiglio più di 3-4. Come poterli configurare insieme? Innanzitutto c'è da fare un'altra precisazione. Se avete, per esempio, uno degli ultimi powerline con tecnologia AV500, e lo volete configurare con un powerline tecnologia un po' più vecchiotta, AV200, sappiate che i powerline non andranno alla velocità superiore AV200. Quindi, la velocità massima che potrete raggiungere con un powerline AV500 ed un powerline AV200 sarà massimo di 200 Mbps, chiaramente non in full duplex, quindi da dividere per due. Questo, chiaramente, è un avvertimento nel senso di, se avete comprato un kit nuovo, TLPA4010 P-Kit AV500, e vi è rimasto un fondo di magazzino, un AV2010, però cercate di associarli con la stessa velocità o superiore. Quindi, se avete due AV500, prendete una AV600 o una AV500, e evitate di mettere una AV200, perché poi vi va tutto più piano. Come associarli? Una volta che il powerline lo collegate alla corrente, dovete verificare una cosa. Vedete, qui ci sono tre LED. Il primo è il LED del power, il secondo è il LED dell'accoppiamento, e il terzo è il LED del cavo Ethernet. Voi dovete badare bene al LED primo e secondo. Quindi, come si fa l'accoppiamento? L'accoppiamento avviene in questo modo. Prima collegherete il powerline alla corrente, ed attenderete che lo stesso si avvii. Successivamente andate a collegare l'altro powerline alla zona dove volete avere internet, quindi uno vi rimane per forza vicino al modem router, e lo collegherete con il cavetto Ethernet al modem router. L'altro, successivamente, o gli altri, nelle zone dove non avete internet. Ora, per configurare e per fare il pairing, cosa dovete fare? Una volta attaccati, dovete resettarli. Quindi, premete il tasto di pair, o se è presente il forellino di reset, perché in quelli che hanno il wireless c'è il forellino di reset, premete il pair per 10 secondi, no, premetelo fin quando la luce del power non si spegne, successivamente lo lasciate, e fate così su tutti i 3, 4, 2, 6, 10 powerline che avete nella stessa abitazione. Successivamente cosa fate? Il pairing, dovete fare l'accoppiamento dei powerline. Quindi, senza seguire uno schema logico, andate nel primo powerline che vi conviene, premete il tasto di pair per un secondino, e vedrete che la luce del power inizierà a lampeggiare in maniera regolare. Andate a fare la stessa cosa negli altri powerline. Avete tempo un minuto e mezzo, ok? Quindi, eventualmente, per associarli, metteteli tutti in un'unica stanza, e poi li andrete a posizionare dove volete. A fine procedura, il led della casetta dovrà essere verde, o comunque blu, o comunque acceso in maniera fissa. Questo sta a significare che i powerline sono stati configurati in maniera corretta. Se avete, per esempio, dei powerline che, come in questo caso, non hanno il wireless, oppure avete anche un powerline del genere che non ha il wireless, potete tranquillamente, al posto che collegare un pc qui sotto, potete tranquillamente collegare, per esempio, una chest point. Questo vi garantirà di avere internet wireless che arriva direttamente con cavo ethernet da qui. i powerline viaggia sull'impianto elettrico, porterà il segnale poi all'access point che collegherete qui nel powerline. Questo perché? Perché se avete un powerline solo in una camera e collegate un pc con cavo ethernet, ma la figlia ha bisogno di andare in internet con lo smartphone, bene, collegherete un access point, il vostro pc si collegherà non più mezzo ethernet, ma mezzo wireless, e così anche lo smartphone della vostra figlia. In questo caso, chiaramente, avrete due contemporaneità, e non avrete dovuto acquistare, per esempio, un powerline con il wireless. Quindi avete sfruttato questo powerline integrandolo con un access point, che, tra l'altro, è una soluzione sicuramente migliore che prendere un powerline già direttamente con il wireless a bordo. Presa passante perché? Presa passante perché, chiaramente, se avete una presa che non potete farne a meno, collegate il powerline e la presa la attaccate qua davanti. Stessa cosa sul powerline passante nuovo. Questo vi permetterà, chiaramente, di non perdere l'uso delle vostre prese di casa. Bene, per questo video esplicativo di powerline credo di aver detto tutto. Se ci sono domande, fatemele pure in descrizione. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, datemi dei consigli. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World.